Il traguardo è segnato nei primi mesi del 2025. Entro quel periodo, la 26 dovrebbe essere liberata dai maxicantieri che interessano questa tratta autostradale dal 2019. Dopo la pausa estiva, la notte scorsa, Aspi ha riattivato gli interventi nel tratto Ovada-Masone, circa 7 km, che dureranno nei prossimi mesi. La circolazione verrà veicolata interamente sulla carreggiata sud. I mezzi che da Genova viaggeranno verso Alessandria dopo uno scambio di carreggiata si incolonneranno su un'unica corsia e procederanno verso nord. Viceversa, chi si sposterà dal Basso Piemonte verso la Liguria ne avrà a disposizione due. Grazie poi al Road Zipper, strumento all'avanguardia costituito da cubi di cemento che dividerà i flussi, sarà possibile aggiungere o togliere una corsia per senso di marcia, in funzione delle code, nell'una o nell'altra direzione. Lungo il primo tratto si completerà entro il 31 marzo il lavoro di ammodernamento della Galleria Poggio, oltre a un restyling del viadotto Gargassa e all'installazione di nuove barriere di sicurezza. Nel secondo, stessa operazione di ristrutturazione per le gallerie Ciutti e Setteventi, che da cronoprogramma verranno ultimate prima, il 31 gennaio 2025. Il passaggio successivo, una volta terminati i cantieri più corposi sull'A26, sarà sulla A7. Chi viaggia lungo queste arterie autostradali dovrà portare pazienza ancora per qualche mese. Senza dubbio, questo lungo periodo di cantieri ha segnato un intero territorio, quello ovadese, che insieme all'Aquese è interessato da altrettante criticità sul fronte della tratta ferroviaria Acqui-Ovada. Proprio poche ore fa, ad Ovada, si è svolto un vertice tra gli assessori regionali ai trasporti di Liguria e Piemonte, Pendolari, Sindaci, RFI, proprio su questa tratta. Insieme agli industriali e alle camere di commercio dei vari territori interessati, le due regioni firmeranno un documento unitario da inviare ai ministeri dei trasporti e dell'ambiente, sollecitando il governo a intervenire per aiutare a risolvere i problemi strutturali di quell'area.